Il settore della pelletteria è senz'altro il fiore all'occhiello per la Toscana, il Medi in Tuscani è apprezzato in tutto il mondo e noi siamo a Pian Disco dove c'è un'eccellenza della nostra regione. Guidata da Aldo Cappetti, stilista pellettiere, titolare di un'azienda di grande qualità che oltre a prestare la sua opera per i migliori marchi del mondo nella produzione di accessori di piccola pelletteria realizza una sua linea di oggetti di raffinata eleganza. Aldo Cappetti festeggia oltre 32 anni di attività con la propria famiglia a cui ha dedicato passione e interesse e veramente un maestro d'arte. Sentiamo cosa pensa lui del momento di crisi che stiamo vivendo, che cosa suggerisce anche ai giovani per aggredire il mondo del lavoro e diventare protagonisti. Sicuramente essere al fianco dei grandi è importante, vincere la globalità con la qualità e la professionalità. Entriamo nella sua azienda. Dunque Aldo Cappetti, sappiamo fra l'altro che presto sarà insegnito anche della qualifica di maestro artigiano, un riconoscimento molto importante attribuito da Union Camere Toscana e dalla regione. Ma noi vogliamo parlare proprio di questo suo mestiere creativo che comporta veramente una pratica quotidiana con le mani, un lavoro che ama, che motiva ogni sua giornata. Che messaggio possiamo lanciare oggi ai giovani che sono costretti a fare i conti ogni giorno con una crisi che li vessa, che li rende protagonisti in senso negativo? Allora le imprese e i giovani sono un po' all'angolo ma per un motivo molto semplice perché si parla molto e si agisce un po' poco. Quindi gli artigiani e le partitevi di per sé avrebbero bisogno di sostegni. Ai giovani direi smettiamo di guardare all'individualismo, guardiamo più in collettivo e guardiamoci a fianco ad esempio di brand importanti. Bisogna essere convinti, bisogna crederci, bisogna avere la capacità di vedere, osservare, ascoltare, interpretare per poi trasformare su quello che vedi, che ascolti e che gli altri magari ti indicano. Lei è il fianco di un brand molto importante, lei lavora a stretto contatto con il principe del Qatar, quindi il suo marchio è Valentino. Io la ringrazio, lavorare a stretto contatto con lui sarebbe un sogno. Lavoro con i suoi collaboratori ma lavoro diretto per il sovrano del Qatar che è praticamente proprietario della Valentino. Io sono praticamente il suo sviluppo prodotto su indicazione, disegni, progetti dei suoi collaboratori. Quindi anche la globalizzazione può essere un vantaggio, una sfida da vincere? Nella maniera più assoluta può essere un vantaggio, una sfida da vincere. Ce lo fanno vedere, attenzione, un po' in questo periodo, in primis la Germania e in secondo la Francia. Noi in Italia, da un punto di vista, secondo me, politico-istituzionale, pecchiamo un po', siamo lenti. Fiscalità, cose, burocrazia eccetera, ci penalizza, arriviamo in ritardo. Ma io sono convinto che gli italiani, in particolare qui al centro Italia, il Mede in Tuscani, sicuramente, tornerà a farsi le sue ragioni da veri e propri protagonisti, ne sono convinto. L'imprenditore Capetti ha anche altri ruoli nel settore di rilievo. Presidente di Federmoda Rizzo, responsabile del settore pelle, cuoio, calzature di CNA Toscana, è membro della direzione nazionale Federmoda e dà una passione, quella per i gufi. Il gufo è il principe della notte che immunizza da chi gufa contro. Questa è la sua passione da sempre. La mia passione, fra l'altro nelle mie iniziali ho costruito un gufo. Grazie a tutti.